Buongiorno, grazie Presidente, buongiorno ai deputati presenti per questa importante audizione che ci permette di estrimere ufficialmente in questa autorevole sede le nostre preoccupazioni su uno schema di decreto legislativo che non avremmo voluto, come sapete abbiamo difeso la possibilità di vita del corpo forestale dello Stato fin quando è stato possibile. Ora all'esame vi è questo schema di decreto legislativo e la legge delega riporta in particolare e sottolineo due aspetti, il potenziamento dell'efficacia delle funzioni e il riordino delle funzioni di polizia, di tutela dell'ambiente e quindi vogliamo, come è doveroso da parte di un'associazione onlus come la nostra, poter riuscire a trasformare grazie al Parlamento un problema, quello che si pensa sia un problema, in una opportunità invece positiva per il Paese e per le importanti funzioni che il corpo forestale dello Stato ha svolto in maniera precipua. Ogni giorno vengono aperti 24 fascicoli nelle procure della Repubblica per reati contro gli animali, il Parlamento nel 2004 ha approvato un'importantissima legge, la legge 189 del 2004 con la quale ha riformato il codice penale in materia di reati contro gli animali, trasformando quella che allora era una semplice contravvenzione in un delitto e in questi anni di applicazione di questa legge la tutela degli animali, anche grazie a questo strumento legislativo, ha fatto sì che il corpo forestale dello Stato e i suoi agenti entrassero nel cuore degli italiani, anche degli italiani cittadini e non solo di quelli che conoscevano nel territorio agricolo, in particolare agrosibopastorale, già storicamente il corpo forestale dello Stato, che è stato autore di indagini importanti di livello non solo nazionale come per esempio quella contro l'allevamento di cavie Grinil nel Bresciano, per il quale siamo giunti a una condanna confermata in corte d'appello. Vogliamo che questo patrimonio non venga disperso e quindi richiamiamo rispetto al testo dello schema di decreto legislativo alcuni aspetti che vorremmo che vengano migliorati. Prima di tutto nello schema di decreto legislativo non è citato la necessità di modificare il decreto del Ministro dell'Interno 23 marzo del 2007 che in applicazione della legge 189 del 2004 demanda in via prioritaria al corpo forestale dello Stato le attività inerenti all'applicazione di quella normativa. In alcune parti dello schema di decreto legislativo, articolo 2,1 lettera B, articolo 8,1 lettera E, manca la dizione reati contro gli animali fra le attività espressamente che vengono demandate all'arma dei carabinieri. Viene citata la sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare, manca quindi la tutela degli animali in questi due importanti aspetti. L'altro punto di cui sottoponiamo una proposta di modifica e quindi di osservazioni da parte delle Camere a questo schema di decreto legislativo è il fatto che quando si cita espressamente la prevenzione e la repressione della violazione compiuta in danno degli animali, articolo 7,2 lettera F, queste parole dovute e importanti vengono precedute da concorso nella, a differenza invece delle altre attività. E quindi chiediamo che laddove queste attività verranno demandate all'arma dei carabinieri che già esercita anche con suoi, e brillantemente con suoi nuclei specializzati in assi carabinieri sanità in primis, già queste attività di repressione contro gli animali, di reati a danno degli animali, venga eliminata la parola concorzionella, poiché questo fa, come dire, riportato nel territorio, causa solo possibilità di interpretazioni. Altro aspetto importante già richiamato dal collega Procacci dell'EMPA è la questione del nucleo CITES, è stato anche richiamato prima dell'audizione dal comandante della Guardia di Finanza. È chiaro che rispetto alla legge delega che parla di razionalizzazione, il fatto di dividere in tre questo servizio, che anche qui ha dato grande attività, ha dimostrato grande attività negli anni, è che non è solo quello di controllo nelle aree aeroportuali, ma è quello per esempio di controllo specializzato dei reati a danno degli animali per quanto riguarda, ad esempio, attività come zoo e circhi, nei quali sono in corso sequestri, sono in corso attività giudiziarie, negli anni vi sono state attività molto importanti, l'efficienza e l'efficacia del nucleo CITES non va disperso. Già il Consiglio di Stato, nel parere che è agli atti del 18 aprile, richiama questa incongruenza e quindi sottolineiamo l'importanza che l'unitarietà del nucleo CITES venga in ogni caso mantenuta. Vanno quindi mantenuti e rafforzati i nuclei specializzati del Corpo Forestale dello Stato che hanno fatto così bene e che sono richiamati da altrettante norme, il NIRDA, il Nucleo Investigativo dei Reati a Danno degli Animali, che è stato creato sapientemente dal CFS proprio a seguito dell'emanazione della legge 189 del 2004, così come i NO, i Nucleo Creativi antibraconaggio e il CITES già richiamato. Con, e questo vorrà dire esercitare effettivamente la delega, grazie appunto alla legge delega riguardo alla razionalizzazione e al potenziamento dell'efficacia, attraverso quello che invece è in parte mancato negli anni, cioè quello delle diramazioni regionali e locali, che invece con il passaggio, questo sicuramente è un dato positivo invece del passaggio nell'arma dei Carabinieri, le diramazioni regionali e locali, in particolare quelle locali, quelle subterritoriali, che l'arma dei Carabinieri come sappiamo storicamente assicura. Questo preservando quindi le professionalità acquisite e in questo senso quindi la razionalizzazione prevista dalla legge delega, a nostro avviso, deve essere più esplicitata rispetto a questa che è una professionalità, alle professionalità acquisite, così come per noi sempre nella volontà di trasformare questo problema in un'opportunità positiva per tutti nel dare una formazione per i corpi presso i quali entreranno i forestali, quindi Carabinieri e Guarda di Finanza. Questo in un ambito nel quale anche le associazioni ambientaliste e animaliste hanno svolto un ruolo importante in ambito non solo di segnalazione, di denuncia in ogni dove, ma anche nelle attività di formazione. Le scuole di formazione del Corpo Forestale dello Stato sono scuole di eccellenza e noi riteniamo che queste possano e debbano essere anche per i reati a danno degli animali che sempre più sono sentiti da parte dell'opinione pubblica, devono essere preservati appunto all'interno di questo assorbimento. Grazie.